Terrorismo. In tutto il mondo si spendono miliardi per combatterlo. Solo le operazioni statunitensi dal 2001 al 2021 sono costate circa 8.000 miliardi di dollari. Per non parlare delle innumerevoli morti. Un vero bagno di sangue. Ma davvero mandare eserciti è la soluzione migliore? Forse no. Forse la strada migliore sarebbe simile a quella della famosa frase di Falcone sulla mafia. Segui i soldi. Ciao a tutti, io sono Edoardo, questo è Starting Finance e oggi parliamo dei tre metodi principali con cui si finanziano le organizzazioni terroristiche. Prima però dobbiamo capire cosa si intende per organizzazioni terroristiche. A prima vista può sembrare un concetto semplice ma in realtà è un po' ambiguo. La definizione ufficiale dice che si può parlare di organizzazione terroristica quando ci sono almeno due persone impegnate a pianificare e mettere in atto azioni terroristiche. E fin qui tutto chiaro. Ma cosa si intende per azioni terroristiche? Guardando al diritto internazionale sarebbero atti di violenza illegittima per provocare paura e agitazione nell'opinione pubblica. Atti per spingere il proprio Stato o un governo estero a prendere determinate decisioni in linea con gli obiettivi dell'organizzazione terroristica. Anche questa definizione a prima vista può sembrare lineare ma se la si legge con più attenzione in realtà è un po' più complesso. Il problema è che si dice che si parla di terrorismo quando si usa violenza illegittima. Ma come decidere quando un atto di violenza è o meno legittimo o almeno giustificabile? Dire che sia contro la legge o contro lo Stato non è sufficiente o almeno non sembra. Infatti se così fosse il diritto internazionale dovrebbe dare sempre e solo ragione agli Stati. Anche nel caso ad esempio di una rivolta contro una dittatura sanguinaria. Che a sua volta non si pone limiti nell'uso della violenza con la quale magari manifestare pacificamente sarebbe una pratica impossibile. E insomma se scoppiasse una rivolta in Corea del Nord sembrerebbe assurdo inviare i caschi dell'ONU a difesa del regime. Dovremmo a questo punto classificare i ribelli come terroristi. In generale quindi il distinguo tra violenza legittima e illegittima, tra terrorismo e resistenza, dipende molto dal contesto oltre che dagli obiettivi. Si può dire che degli atti di violenza pubblica sono in qualche modo legittimi al pari di quelli compiuti dallo Stato quando servono a rivendicare dei diritti fondamentali negati e senza la possibilità di ottenerli pacificamente. Diventano allora molto importanti i diritti dell'uomo a prescindere dell'essere cittadino o meno. Anche qui restano diversi punti di ambiguità perché definire i casi in cui dei diritti fondamentali sono davvero negati e non sarebbe possibile la via pacifica non è facile. Quindi definire chi è terrorista e chi no, spesso, altrettanto non semplice. Non sono rari i casi in cui stati diversi non sono d'accordo nella definizione di alcuni gruppi. Non c'è un criterio universale applicabile a tutti i casi. Quindi il modo migliore per definire cosa sono i gruppi terroristici è dire che sono quelli classificati come tali dalla maggior parte della comunità internazionale. Quindi in altre parole, quelli inseriti nella lista antiterrorismo approvata dall'ONU. E noi oggi vogliamo parlare di come si finanziano questi gruppi, quelli presenti nella lista nera. Visto che gli altri, potendo avere anche il sostegno di alcuni stati e sostenitori privati, seguono dinamiche più variabili. Come fanno? Organizzazioni con cui nessuno può avere rapporti né tantomeno fare affari ad essere spesso davvero pieni di soldi. Tanti soldi da poter mantenere e armare milizie in grado di dar filo da torcere anche ad eserciti nazionali. Con armi che non sono proprio economiche e possono essere ancora più costose se devono essere comprate sul mercato nero. Non si tratta di cifre da poco, anche se fare una stima precisa è difficile. Al-Qaeda per esempio, secondo le indagini degli Stati Uniti, tra fine anni 80 e 2001, avrebbe ricevuto 30 milioni di dollari ogni anno solo dalle donazioni sotto banco, senza contare le altre fonti di incasso che hanno le organizzazioni così grandi. Almeno di solito. Ma quindi in pratica, quali sono i metodi più usati dai terroristi per riuscire ad ottenere così tanti soldi? Immaginiamo una generica organizzazione terroristica classificata come tale dall'ONU. Una volta entrata nella lista nera dell'ONU, non può più avere fonti di finanziamento legali. Nessuno Stato, anche volendo, può più supportarla o subirebbe gravi sanzioni. Inoltre, tutti gli Stati sono obbligati a creare e mettere in atto strumenti di controllo per evitare che lo facciano i privati. E nemmeno i membri dell'organizzazione possono finanziarla di tasca loro. Infatti, secondo le direttive ONU, i beni economici degli affiliati devono essere congelati. Le attività economiche legali che si sospetta finanzino terroristi devono essere esaminate e se si scopre un collegamento, chiuse o sequestrate. Quindi come può fare l'organizzazione a continuare ad avere i fondi per andare avanti? Da una parte, possono raccogliere donazioni in contanti dai simpatizzanti, porta a porta, cappello in mano e si chiedono i soldi. Certo, così riuscirebbe a ottenere solo poco denaro, non abbastanza per mantenere il welfare di un'organizzazione così grande. Devono comprare armi, devono avere i mezzi per attirare nuovi membri con campagne di reclutamento e non dimentichiamocelo, hanno bisogno dei beni essenziali per sopravvivere da ricercati. Soprattutto cibo e farmaci, sia per gli affiliati che per le loro famiglie. Il modo più immediato per andare avanti allora è per mezzo delle attività criminali più classiche. Traffico di droghe e rapimenti con riscatto. In modo simile alla criminalità organizzata classica. Così facendo si trovano ad avere in mano grandi quantità di contanti. Soldi non tracciabili che possono usare per comprare in nero armi e rifornimenti. Inoltre, entrare in questa attività ha anche il beneficio secondario di farli entrare in contatto con personaggi chiave del mercato nero. Individui e gruppi che possono aiutarli a trovare e comprare a un prezzo più basso ciò di cui hanno bisogno. Un esempio storico e eclatante di terroristi che si finanziano soprattutto in questo modo è quello delle diverse organizzazioni dell'America Latina. Come ad esempio le FARC, le Forze Armate Rivoluzionari della Colombia. O anche il gruppo Sendero Luminoso in Perù. In realtà è in grado ancora oggi di dare non poco filo da torcere agli eserciti dei paesi in cui si trovano. Questi gruppi, dagli anni 60, per avere i finanziamenti, hanno svolto molti servizi per conto dei narcos. E anche se, come è frequente in ambito criminale, è molto difficile fare stime su quanto hanno guadagnato, è evidente che abbiano fatto ottimi affari. Tanto che in molti casi sono diventati il principale braccio operativo dei narcos, come in Perù, o ne hanno proprio preso il posto, come in Colombia. E oggi, secondo diversi osservatori, non sono rari i casi in cui questi gruppi si sono di fatto trasformati in realtà del tutto criminali. La componente ideologica è molto indebolita, con i leader sempre più orientati verso il guadagno e meno verso un obiettivo politico ben chiaro. Un altro esempio è quello dei talebani in Afghanistan. Il movimento dei talebani, nato nel 1994, all'inizio si è finanziato con il sostegno di Al-Qaeda. Da una parte gli ha dato finanziamenti diretti, che secondo gli Stati Uniti sono circa 20 milioni di dollari l'anno, e dall'altra aiutandoli a trovare altre fonti. E dopo una guerra civile, i talebani presero il controllo di tutto l'Afghanistan. Così dal 1996 al 2001 hanno operato come governo, anche se solo tre paesi li hanno riconosciuti come stato legittimo. Arabia Saudita, Emirati Arabi e Pakistan. Dal 2001 poi iniziò l'avanzata americana, e i talebani, cacciati dal governo, sono dovuti fuggire, dando inizio ad un lungo periodo di guerriglia e attentati nel paese. In teoria, i talebani non sono stati inseriti nella lista ONU delle organizzazioni terroristiche. Tuttavia hanno subito, come gruppo, una serie di sanzioni specifiche che di fatto creano quasi gli stessi limiti. E così, per poter continuare a esistere e a combattere per riprendere il potere, si affidarono alle coltivazioni illegali di oppio, di cui l'Afghanistan, con 224 mila ettari coltivati nel 2020, è il maggior produttore globale. Pensate che il secondo produttore globale di oppio dopo l'Afghanistan è il Myanmar, che conta solo 29.500 ettari coltivati, quasi 100 volte in meno. Per l'ONU il giro d'affari dell'oppio afgano è tra 1,8 miliardi e 2,7 miliardi di dollari l'anno, uguale a circa il 10% del PIL del paese. E così, fino al loro ritorno al potere nel 2021, i talebani hanno usato proprio l'oppio come principale fonte di finanziamento, soprattutto facendosi pagare dai contadini in cambio di protezione. I pagamenti a volte erano in denaro, ma nella maggior parte dei casi direttamente in oppio da rivendere. E così sono riusciti ad avere i soldi per andare avanti per circa 20 anni. Sì, perché hanno guadagnato, secondo l'ONU, ben 460 milioni di dollari ogni anno. Ci dice questo che, a quanto pare, per le organizzazioni terroristiche, la criminalità è un'ottima fonte di guadagno. Però ha anche i suoi lati negativi, come per esempio il calo del sostegno popolare e i rischi legati al fare affari con la criminalità organizzata. E tra l'altro non è qualcosa che può funzionare sempre bene come in Afghanistan o in America, che sono dei contesti particolari in cui i settori illegali sono fiorenti come solo in poche altre zone del mondo. In altri casi il crimine può comunque portare guadagni, ma non quanto basta per sostenere una milizia armata. Così in altri casi diventa fondamentale trovare altre fonti. C'è un elemento fondamentale che mancava ai talebani che però invece aveva al-Qaeda. Cioè contatti e buoni rapporti con le persone giuste nei posti giusti. Chi sono le persone giuste? Beh, sono i cosiddetti colletti bianchi. E quali sono i posti migliori? Beh, i posti migliori da cui dirottare fondi sono gli enti di beneficenza. La beneficenza è sacrosanta, ma molto spesso è difficile da controllare. Quindi usarla per mascherare i finanziamenti ad un'organizzazione terroristica non è così complesso. Soprattutto se l'organizzazione ha sostenitori e complici insospettabili, sia negli enti di beneficenza stessi che nelle istituzioni di controllo. Ancora meglio se siamo in uno stato che, pur non sponsorizzando attivamente terroristi, è ben disposto a chiudere un occhio. Così un gruppo con buoni agganci può continuare a ricevere donazioni da tutto il mondo, anche dopo aver ricevuto sanzioni e essere stato inserito nella lista terroristi dell'ONU. E non si tratta solo di poter ricevere fondi dai suoi sostenitori. Infatti gli enti di beneficenza che finanziano i terroristi non lo fanno dichiaratamente. Sulla carta raccolgono donazioni per altri scopi. Questo in prima battuta serve ad evitare sanzioni internazionali, per non farsi scoprire. Tuttavia così ha anche l'effetto secondario di attirare donatori inconsapevoli, che daranno fondi pensando di finanziare progetti umanitari o progetti civili, quando in realtà saranno destinati alle casse dei terroristi. Nella storia recente sono stati scoperti diversi enti di questo tipo, alcuni dei quali non sono solo stati sanzionati o chiusi, ma perfino inseriti nella lista dei terroristi ONU, al pari dei gruppi che compiono gli attentati. Uno degli esempi più eclatanti di questo tipo di organizzazioni di beneficenza è stata la Benevolence International Foundation, con sede in Arabia Saudita. La fondazione è stata creata nel 1987 dall'imprenditore saudita Adel Abdul Jalil Batterji e lo scopo dichiarato era di aiutare le popolazioni colpite dalla guerra. Ma in realtà, quasi fin da subito, ha avuto lo scopo di finanziare gruppi jihadisti, tra l'altro soprattutto Al-Qaeda, con forti legami tra i membri di spicco del gruppo terroristico e la governance dell'ente. E come strumento è molto utile. La Benevolence Foundation sulla carta è pulita ed avendo uffici sparsi in molti paesi del mondo, può raccogliere fondi dappertutto. Poi, con la scusa di raccogliere tante donazioni individuali, possono anche avere e giustificare grandi flussi di contanti. Contanti che possono facilmente essere trasferiti ai terroristi facendone perdere le tracce. Oppure possono usare i fondi anche non in contanti per finanziare iniziative a prima vista umanitarie, come la costruzione di infrastrutture o la distribuzione di viveri. Ma in realtà, comunque funzionali alle strategie di Al-Qaeda e dei gruppi alleati. Anche guardando al di fuori del Medio Oriente, poi, le realtà di questo tipo non sono così rare. Basti pensare ad un caso che c'è forse un po' più vicino. L'Irish Republican Army. Più in nota con l'acronimo di IRA, l'IRA. Gruppo che ha come obiettivo la riunificazione dell'Irlanda del Nord e l'Irlanda del Sud. L'IRA è sempre stato in un contesto in cui raccogliere fondi non è facile, ma in compenso le sue attività non sono poi così costose. Dopotutto gli servono solo mezzi per diffondere i loro messaggi, qualche ordigno e piccole armi per gli attentati. Secondo un'analisi dell'Università di Ulster, costano all'organizzazione tra i 3,5 e i 5 milioni di dollari l'anno. Cifre molto diverse rispetto a quelle di cui abbiamo parlato prima. Certo, comunque bisogna tirare fuori 5 milioni. E per finanziarsi hanno usato l'ente di beneficenza Irish Northern Aid Committee, noto come NORAID, con sede negli Stati Uniti. L'ente sulla carta ha il fine di promuovere la cultura tradizionale irlandese, ma di fatto è stato il maggior finanziatore degli attentati dell'IRA. Dopo la scoperta, l'associazione è stata sanzionata, ma non chiusa, tanto che esiste ancora oggi. Anche perché l'IRA non è nella lista ONU delle organizzazioni terroristiche internazionali. Quindi, ricapitolando, abbiamo visto che i terroristi usano per finanziarsi attività criminali classiche e enti di beneficenza deviati. Entrambi sono sistemi che richiedono importanti agganci, ma c'è un sistema che solo i gruppi più forti possono mettere in atto. Un sistema possibile solo quando i terroristi arrivano a ottenere un potere paragonabile a quello di uno Stato. A volte, in alcuni Stati, si creano situazioni in cui organizzazioni terroristiche arrivano a controllare grosse porzioni di territorio, arrivano a creare dei piccoli Stati non ufficiali. A quel punto, le spese dell'organizzazione tenderanno ad essere abbastanza importanti, ad aumentare di molto, soprattutto vista la necessità di dover difendere il territorio occupato, oltre che eventualmente dover gestire i servizi di base. Le infrastrutture costano. Allo stesso tempo, però, anche gli incassi possono schizzare in alto. Una volta ottenuto il controllo di un territorio abbastanza ampio e ricco, infatti, possono prendere il controllo delle materie prime presenti, iniziando a venderle illegalmente. E pensate, se si tratta di risorse strategiche, come per esempio il petrolio, trovare un acquirente disposto a comprare ad un prezzo più vantaggioso è alquanto facile. Soprattutto visto che quelle materie prime spesso sono fondamentali per le attività degli abitanti più vicini, quindi bloccarne del tutto la vendita avrebbe gravi conseguenze socio-economiche. Gas e petrolio, infatti, sono le materie prime più vendute dai terroristi. Al secondo posto, secondo l'Interpol, ci sono gemme e metalli preziosi. Per questi la domanda è meno forte, ma in compenso è facile trasportarli attraverso canali di contrabbando. Un caso celebre di un gruppo terroristico arrivato a controllare un territorio ampio e a sfruttarne le risorse è stato quello dell'ISIS, gruppo che dal 2013 al 2015 ha conquistato buona parte dell'Iraq e della Siria. Così facendo, infatti, ha preso il controllo di giacimenti di petrolio fondamentali per le economie delle comunità e dei paesi circostanti. Bloccarne la vendita avrebbe potuto causare conseguenze devastanti. Così, pur rimanendo in guerra, hanno comunque potuto vendere il greggio quasi indisturbati. Tanto che, secondo le stime, al picco del loro potere nel 2015 sono arrivati a venderne circa 40 milioni di dollari al mese. Ma non sono gli unici. Un altro esempio di questo genere ancora presente è in Nigeria. Il paese africano sta vivendo una fase di ottimo sviluppo. Eppure, nonostante ciò, il gruppo terroristico di Boko Haram controlla buona parte dei territori a nord-est del paese. Non è chiaro in questo caso quanto incassino dalla vendita di greggio. Non ci sono stime affidabili. Tuttavia, il loro impatto è molto significativo. Il petrolio, infatti, è fondamentale sia per sostenere lo sviluppo del paese sia per gli incassi delle esportazioni. Quindi non è possibile prendere misure serie per bloccare gli affari di Boko Haram senza il rischio di affossare l'economia nazionale. Tanto che si possono permettere di minacciare il governo centrale legittimo di arrivare a bloccare la produzione rischiando di affossare l'economia del paese. E così, ovviamente, diventa anche molto complicato attuare azioni militari serie contro il gruppo. Dall'altra parte c'è il rischio di un enorme contraccolpo che potrebbe avere sull'economia. Quest'ultimo modo in cui i terroristi si finanziano si può considerare il livello massimo. Quello che può apportare più soldi e soprattutto dare più potere. Certo che però, una volta raggiunto questo livello, si possono comunque usare i sistemi di cui abbiamo parlato prima. Se un gruppo controlla un territorio può anche guadagnare dai crimini e dirottando i fondi di beneficenza. Così come un'organizzazione con gli agganci per deviare i fondi della beneficenza può anche usare il crimine. E di solito, quando possono, fanno tutte e tre le cose. Da questo discorso sono sicuro vi nascerà la voglia di sapere come si finanziano gruppi terroristici specifici. Quindi scriveteceli pure nei commenti che noi ci pensiamo su. E chi siano i gruppi terroristici che ci dovrebbero preoccupare di più, lo lascio a voi. Che io per oggi mi fermo qui. Come al solito, io sono Edoardo, questo è Start in Finance e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!